Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere l'add-on per WooCommerce, Add Future Video. Se non hai mai sentito parlare di WooCommerce, si tratta del più popolare plugin per WordPress per trasformare WordPress in un vero e proprio e-commerce. In questa lunga serie di video presenti qua sopra e all'interno del mio canale, stiamo vedendo quelli che sono i più popolari add-on per ottenere il massimo dal nostro e-commerce. Abbiamo infatti visto add-on che si occupano maggiormente di fornire nuovi strumenti per i proprietari di e-commerce, abbiamo visto add-on che si occupano di incrementare quello che è il business relativo al nostro e-commerce e anche altre tipologie di add-on che magari sono più orientate ad aumentare quelle che sono le conversioni sul nostro e-commerce. Nel video di oggi andremo a vedere un interessante add-on per mostrare dei video esplicativi dei nostri prodotti all'interno dell'e-commerce. Non perdiamo però adesso altro tempo e andiamo a vedere come funziona. Questo add-on ha un costo di 49 dollari l'anno. Come tutti gli add-on che abbiamo visto finora all'interno di WooCommerce, abbiamo compresi all'interno del primo anno aggiornamenti e supporto. Questo costo è un costo comunque di abbonamento che possiamo disdire in qualunque momento e naturalmente noi smetteremo di ricevere aggiornamenti e supporto al termine del nostro primo anno dalla data di acquisto. Andiamo un pochettino a vedere che cosa fa questo add-on nel dettaglio. Questo add-on ci consente di inserire un video nella galleria del prodotto e ci consente quindi di rendere più attrattivo, più esplicativo quello che è il prodotto stesso. Pensate alla possibilità di inserire non solo immagini ma video. Naturalmente abbiamo la possibilità di caricare questo video localmente all'interno del nostro e-commerce. Possiamo pure prendere un video e embeddarlo da YouTube, da Dailymotion o da Vimeo. e possiamo aggiungere video illimitati, quindi non abbiamo un limite per quanto riguarda i nostri video. Possiamo organizzarli in gallerie, possiamo renderlo come video in evidenza e personalizzare quelle che sono le miniature. Andiamo un pochettino a vedere nel dettaglio quali sono le altre future, le altre possibilità che ci dà questo add-on. Abbiamo la possibilità di mostrare un video all'interno di un prodotto come al posto delle immagini in evidenza. Quindi al posto delle immagini in evidenza vedremo questo video. Possiamo aggiungere il video a una gallery, quindi se abbiamo invece una galleria di prodotti in una singola immagine possiamo aggiungere questo video all'interno della galleria. Possiamo anche, come abbiamo detto prima, aggiungere un link, quindi nel caso di un video embedd, oppure caricare il video localmente. Possiamo decidere di avere immagini e video contemporaneamente, lo vedremo poco più avanti, in uno screenshot. Possiamo appunto embeddare, quindi sono supportati YouTube Dailymotion e Vimeo come tipologie di video esterne. Possiamo aggiungere una barra di video nella pagina di prodotto. Possiamo mostrare anche differenti video per quanto riguarda le variation di un prodotto. Quindi se abbiamo un prodotto che ha la variation, alla selezione della variazione, della variation, possiamo mostrare un video differente. Possiamo mostrare anche i video all'interno della shop page, quindi della pagina shop e di tutte le pagine di archivio, quindi gallerie, categorie, tag e quant'altro. Possiamo abilitare o disabilitare anche un bottone che lancia il video all'interno della shop page, quindi che ci consente di lanciare, di visualizzare il video direttamente lì senza entrare all'interno del prodotto. Possiamo caricare delle miniature personalizzate per i video, quindi possiamo anche dare noi una miniatura che decidiamo al nostro video. Possiamo mostrare tutti i video relativi all'interno di una barra di video all'interno della pagina del prodotto. e abbiamo molte altre opzioni che sono presenti all'interno di questo add-on che magari adesso qua non sono state elencate e ultimo ma non ultimo, abbiamo anche, diciamo questo add-on è anche curato per quanto riguarda il responsive, quindi per quanto riguarda la visualizzazione in mobile. Come possiamo vedere qui, abbiamo la visualizzazione di un video messo al posto dell'immagine in evidenza, quindi abbiamo a tutti gli effetti un video in evidenza che viene mostrato come video al posto, come presentazione del prodotto al posto dell'immagine in evidenza. Naturalmente questo può aiutare gli utenti a visualizzare meglio quella che è la realtà del prodotto e senza doverli mandare appunto, nel caso per esempio qua di YouTube, senza doverli mandare fuori dal nostro e-commerce rischiando quindi di perdere l'utente. Come abbiamo detto prima, abbiamo la possibilità, e qua lo vediamo bene, di visualizzare diversi video per diverse variation del nostro prodotto, quindi se abbiamo un prodotto variation possiamo visualizzare differenti video per ogni variazione. Possiamo mostrare il video all'interno di una galleria, quindi abbiamo una galleria, abbiamo tutte le varie thumbnail, tutte le miniature delle varie foto e abbiamo anche una miniatura che cliccandola ci farà vedere quello che è il video che è stato scelto, caricato per questo prodotto. Possiamo vedere, abbiamo detto, i video che sono stati impostati come video in evidenza all'interno della pagina shop, quindi avremo all'interno della pagina shop i nostri prodotti e avremo appunto la visualizzazione dei video che serve appunto questo a rendere il prodotto più visibile possibile ed è un ulteriore dettaglio del prodotto e soprattutto l'utente può visualizzare questi video anche senza entrare all'interno di ogni singolo prodotto, ma direttamente visualizzarli all'interno di ogni singolo prodotto, quindi visualizzarli direttamente nella pagina shop. infatti abbiamo questo bottone che è launch video che abbiamo detto poco prima che può essere abilitato oppure no e questo launch video ci consente appunto di andare a creare per ogni video che c'è in evidenza di ogni prodotto un pop-up che mostra il video all'interno appunto della pagina in cui siamo quando naturalmente l'utente andrà a cliccare sul bottone launch video che naturalmente possiamo anche personalizzare. Questo è un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la Wix e gli utenti appunto possono visualizzare i video e i dettagli appunto dei prodotti senza dover caricare e cambiare pagina ogni volta. Andiamo a vedere un po' di benefits, un po' di cose che possono venire bene grazie a questo add-on, quindi cosa possiamo andare a migliorare grazie a questo add-on. naturalmente questo add-on consente di mostrare i nostri prodotti in un modo molto molto più chiaro e comprensivo quindi abbiamo in nostro aiuto non soltanto più le immagini ma bensì anche dei video illustrativi che possono far decidere i nostri utenti a procedere con l'acquisto. Come appunto detto poco fa adesso naturalmente vedere un video rispetto a un'immagine può essere un passaggio ulteriore in più per decidere, per far decidere l'utente ad acquistare, a procedere con l'acquisto. Abbiamo davvero quasi in real time il prodotto che stiamo acquistando. I video nella pagina shop possono aiutare appunto ad attirare utenti e incrementare quindi quelle che sono le nostre vendite. Come abbiamo detto potranno gli utenti infatti visualizzare tutti i dettagli dei prodotti direttamente lì e senza dover cambiare pagina e quindi non visualizzare magari il dettaglio di un prodotto solo ma un dettaglio di più prodotti perché li avranno tutti a disposizione. Gli basterà lanciare il video e chiudere il pop-up se il prodotto non gli interessa. Abbiamo appunto questo qua è un ottimo viene considerato dagli autori del add-on un ottimo tool un ottimo add-on per quanto riguarda i prodotti di tipo tecnologico ma si può applicare tranquillamente a qualsiasi altro settore merceologico noi abbiamo necessità e naturalmente questo ci aiuta a pubblicizzare in maniera molto molto più approfondita i nostri prodotti facendo in modo appunto che le vendite crescano. Qua abbiamo un pochettino la micro guida di come poter installare scaricare e installare l'add-on ma fondamentalmente si tratta dell'aggiunta di un plug-in all'interno del nostro Wordpress. Bene direi che questo interessante add-on può aiutare davvero a far crescere il nostro business a far crescere il nostro e-commerce perché ci consente di spiegare in maniera molto più accurata quelli che sono i nostri prodotti quindi dimostrarli davvero in maniera molto molto più esaustiva. Direi che per quanto riguarda l'add-on future video quindi video in evidenza è tutto. Bene mi auguro che tu abbia trovato utile questo video se hai comunque dei dubbi delle domande c'è qualcosa che non ti è chiaro o ti piacerebbe vedere qualche approfondimento relativo a Wordpress e WooCommerce che ancora non è stato trattato all'interno del mio canale scrivimelo qua sotto in modo tale che posso darti una mano per quanto più possibile oppure posso trovare qualche nuova idea qualche nuovo spunto per qualche altro nuovo video di informazione proprio come questo. se questo video comunque ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao